Ciao ragazzacci, io sono Mccito25 e siamo qui sul Car Mechanics Simulator 2015. Allora, siamo qui al telefono perché è uscito questo lavoro che ha due parti, quindi facciamo accetta lavoro, vediamo un po' quello che ci fa fare. La seconda parte dovrebbe essere facile, sostituisci i filtri non dovrebbe essere troppo difficile, però non capisco cos'è quella prima parte. Comunque finché mi danno l'elenco dei pezzi, allora bobina di accensione, candela di accensione, cinghia, collettore di ispirazione, copertura condotto e puleggia gomito. Ok, quindi questa parte qui la so fare e i filtri veicoli devono essere sostituiti. Ok, va bene, quindi entriamo qui dentro, poi facciamo accendi, accendi, accendi così, poi facciamo tre, ok, queste cose qua le dobbiamo tutte smontare, quindi smonta, smonta questo, gentilmente, questa va cambiata, ok, non è difficile. Va cambiato forse pure questo, fammi vedere. No, questo no, però va cambiato questo, perché non me lo fai cambiare? Perché devo togliere prima questo cosino qua, ok, cinquantamila cose da cambiare, guarda qui, una serie infinita di bulloncini, bulloncini sempre da togliere, dai, ti prego, dammi un po' più di potenza, dammi una chiave buona, una chiave da dare in compressa magari, poi il filtro va cambiato, perché non me lo fa togliere? Me l'ha fatto togliere, poi qua va tolto tutto, basta con quel telefono, che cos'è, è una cosa incredibile, il filtro dell'aria va cambiato, allora questo qui lo togliamo, la bobina e va cambiata anche questa candela che è scossa, scassatissima proprio, poi qua c'è da togliere la cinghia di trasmissione, poi il ten di cinghia perché devo prendere qualcosa lì e poi iniziamo a vedere quello che ci serve, quello che ci rimane, poi togli questo e prendi questo, ok, perfetto, poi facciamo, vediamo un po', bobina l'ho presa, la candela l'ho presa, la cinghia di trascinamento l'ho presa, il collettore l'ho preso, la copertura l'ho presa, l'apologio a gomito l'ho presa, ok, no, possiamo anche ancora smontare il filtro, come si fa a smontare? Ok, devo togliere questi quattro cosini qua, dopo che ne tolgo uno, toglimi tutti gli altri, no? Secondo te che faccio? Ne tolgo solo uno perché sono un pirla o perché io lo voglio rubare? Ok, ah, mi mancava un filtro, secondo me è anche il filtro dell'olio, infatti, eccolo, scatola del cambio, filtro dell'olio, ah, deve essere sul sollevatore, lo facciamo dopo, prima andiamo a vedere qua quello che possiamo fare, quindi filtro e carburante, entriamo qui, dobbiamo comprare miliardi di cose, filtro, filtro, allora prendiamo il filtro dell'aria, filtro dell'aria l'abbiamo preso, il filtro dell'olio lo prendiamo pure, quello del carburante dov'è? Dovebbe essere questo, ok, perfetto, preso, poi, quindi, i filtri li abbiamo presi tutti, allora, noi ci togliamo, ci togliamo, con calma, che qua facciamo casino, filtro dell'aria lo togliamo, sì, eh, qual è quello che devo togliere più? Il filtro del carburante non c'è? No, ancora non l'ho preso, ah no, filtro del carburante, eccolo, 3 dollari, poi mi serve copertura condotto di scarico, scriviamo copertura condotto, caccella, caccella, copertura condotto, ok, 35 dollari e l'abbiamo preso, quindi torniamo qui, è un casino, me lo potremmo dire direttamente là sul computer, quello che devo comprare, quindi questo l'ho comprato, poi, bobina di accensione candela, ok, bobina, scriviamo solo bobina, bibina ho scritto, bene, no, perché ho salvato lo screenshot, bobina, ho scritto bibina, bobina di accensione questa, sì, è candela, candela, per fare il compleanno, quando fate il compleanno vi danno questa candela, voi la dovete soffiare, quindi la bobina l'ho comprata, questa l'ho comprata, puleggia albero a gomito, ok, puleggia, scriviamo puleggia, puleggia, puleggia albero a gomito questo, sì, 120 dollari, che casino, che casino, compriamo, perfetto, poi, abbiamo comprato tutto, abbiamo comprato, andiamo a rimontare tutto, intanto che montiamo, poi dobbiamo alzarla, quindi dobbiamo sempre vedere le cose da fare, quindi mettiamo qua il filtro, poi ce l'abbiamo subito qua, vai, mettiamoci la copertura per il filtro, perfetto, poi mettiamoci qua i quattro pernini, uno, due, dai, mettici quello che vuoi, che cazzo me ne frega, sono tutti uguali per me, tre, peraltro vai a capire perché 1,68, 1,69, vabbè, comunque, il mistero della vita, copertura di scarico, l'andiamo a mettere, anche perché qua i gas di scarico escono belli potenti, belli caldi, puleggia albero a gomito, che la mettiamo nuova, ok, ci dovrebbe mancare solo il filtro dell'olio, che dobbiamo farlo lì sopra, dobbiamo alzare la macchina, non possiamo metterlo direttamente così, di cinghia, perfetto, poi mettiamo anche questo, no, mi scusi, mi scusi, no, non voglio mettere questo, ho sbagliato, ok, allora, collettore di ispirazione, non l'ho comprato, non l'ho comprato, oh, non l'ho comprato, non l'ho comprato, collettore, collettore di ispirazione R4, MPI o DI, mi sono scordato, collettore, fammi vedere che lo, ma perché spariscono le cose, collettore di ispirazione DI, ok, collettore di ispirazione DI, questo mi serve, quello che costa di più, porca di quella troia, poi entriamo di nuovo al motore, montaggio, mettiamogli questo nuovo, sì, me l'hanno scordato di comprarlo questo qua, facciamo questi otto bulloncini, peraltro il collettore di ispirazione è stranissimo, non so se esistono più, ormai tutte le macchine, no, tutte, moltissime macchine hanno, non mi sembra tanto, valvo la farfalla, non mi sembra tanto un sistema iniezione questo qua, devo essere onesto, quindi qua abbiamo montato tutto, sì, credo di sì, ah no, che cazzo fai, devo montare ancora questo, fai il montaggio, candela, mettici la candela, poi ci metti anche al mobile d'accensione, fammi vedere all'inventario quello che c'ho, c'ho il filtro di noia, il filtro di carburante, questo lo posso vendere, sì, allora il filtro di carburante lo posso mettere già adesso, andiamo qui in montaggio, di solito ho da queste parti il filtro di carburante, eccolo, che per ricordarvi ogni volta dov'è, faccio una fatica, ok, spostiamo la macchina con la M sul coso qui, dobbiamo alzarla perché dobbiamo vendere il filtro, quindi me la stai già alzando? Ok, eccoci, vai che me la stai alzando, perché dobbiamo prendere il filtro che c'è sotto, il filtro dell'olio, guardate un attimo, andiamo in smontaggio, cambia il filtro dell'olio, andiamo in montaggio, montaggio ha detto, mi scusi? Ok, non mi aveva preso in comando, metti questo nuovo, abbiamo finito, vendi il vecchio, ok, fammi fare O, cinchia di trascinamento, ma non ce l'ho messa la cinchia di trascinamento, scusi, ma perché non è lì? Vai al centro gentilmente, è volata la macchina, allora andiamo qui dentro, facciamo un montaggio, che cinghia di trascinamento, dove cazzo è? Sta cinghia, oh, cinghia di trascinamento che non sia all'interno? Non mi dire, non mi dire perché mi incazzo, allora, cominciamo a togliere tutte le cose qua, come si fa a togliere? E che cos'è? Allora, togliamo tanto questo qui, che non sia qui sotto la cinghia, quindi togliamo anche questa qui, poi togliamo tutto quanto, mi fa incasinare, guarda, devo togliere questa, la rotafolle, mi sono scordato un pezzo, mi sono scordato un pezzo, ero convinto di aver fatto tutto, poi togliamo anche questa cazzo di pompa, dovrebbe essere quella qui sotto, dovrebbe essere, che mi dà problemi, qua ci sono un sacco di bulloncini da svitare, poi, poi prendiamo questo e prendiamo anche questo, fammi vedere, è questa, sì, è questa, ma vaffanculo, va, vaffanculo, va, cinghia di trascinamento, vero? Cinghia di trascinamento che è triangolare, si chiamano uguali, si chiamano, allora, cinghia, cinghia di trascinamento, queste due si chiamano uguali, mi devi spiegare perché si chiamano uguali, vabbè, comunque, entriamo nel motore, andiamo in montaggio subito, subito, facciamo in fretta, tanto non è che ci vuole tantissimo, quattro bulloncini, qua, poi questo, abbiamo fatto tutto così bene, abbiamo fatto, siamo stati rovinati alla fine, peraltro abbiamo l'OBS che non abbiamo usato, se non sbaglio, speravo di prendere quello che mi desse qualche altro ordine un po' particolare, però continuo a darmi ordini sempre uguali, mi sono rotto un po' le palle a fare le stesse cose, ok, qua, poi avvita, poi metti queste due cinghie di trascinamento di minchia qui, ok, dovrebbe essere a posto, vero? No, il 10 di cinghie, ok, che te lo metto subito, ok, dovremmo aver finito, fammi vedere, sì, finito, 1300 dollari, sono tantissimi sono, fammi vedere, 1250, ok, ogni ordine facciamo 250, quindi fra quattro ordini possiamo spendere un altro punto, allora, finissi con questa puntata, noi ci vediamo nei prossimi episodi, ciao! Ciao!